L'immediato pagamento degli stipendi per gli operatori, l'istituzione urgente di un tavolo delle emergenze per le migliaia di lavoratori senza stipendio o per coloro che hanno perso il posto di lavoro. Sono le richieste al Governo regionale sull'avvertenza della formazione che sono state ribadite dalla CISL Scuola e dai lavoratori stamane nel corso di un sit-in al quale è aderito lo SNALS che si è tenuto davanti la sede della Presidenza della Regione in Piazza Indipendenza. I lavoratori della formazione professionale che operano nell'ambito dell'avviso 20 del 2011 nei percorsi di obbligo e distruzione degli sportelli multifunzionali sono ridotti ormai alla fame senza stipendio da 12 mesi. Non percepiscono neanche la cassa integrazione e la situazione diventa drammaticamente insopportabile. Il Presidente Crocetta ricordi che anche i lavoratori della formazione hanno diritto alla retribuzione e questo l'appello lanciato dai sindacati. Continua l'avvertenza della formazione professionale, la situazione rischia di diventare veramente una macelleria sociale. Sì, la situazione è drammatica, questo Governo evidentemente non lo vuole capire perché ancora non abbiamo notizie e riscontro. Abbiamo una media di stipendi non pagati di 12 mesi e quando dico media significa che ci sono già parecchie sacche di lavoratori che non percepiscono 16-18 mensilità. È drammatica la situazione. A questo aggiungiamo che nel frattempo si continuano a perdere posti di lavoro perché ci sono gli esuberi che stanno diventando licenziamenti. La Regione non affronta nulla di tutto ciò, siamo sotto Natale e non percepiamo retribuzioni. Ci dica il Presidente Crocetta cosa vuole che noi facciamo. Dobbiamo essere tutti allo stesso modo della GESIP, dobbiamo trattare la Regione allo stesso modo o la civiltà deve essere scambiata per stupidaggie. Noi siamo degli operatori onesti, lavoratori onesti della formazione professionale. Lo voglio sottolineare perché poi sul report si fa una differenziazione. Noi dobbiamo differenziare da chi fa malaffare a chi invece lavora. Gli operatori lavorano costantemente e ogni giorno per la retribuzione, mentre qualcun altro fa malaffare. Noi siamo contro il malaffare, ma a pagare non devono essere lavoratori. Oggi a pagare gli unici sono i lavoratori. E' salito a tre il numero delle vittime del crollo di due palazzine avvenuto questa notte in via Bagolino, nella zona dei cantieri navali a Palermo. Un disperso e sette feriti completano il tragico bilancio del disastro. Le vittime sono Ignazio Accardi, 82 anni, Antonio Cinà, 54 anni, e la moglie di Accardi, Maria Lamattina, 80 anni, il cui cadavere è stato trovato questa mattina poco prima delle 11. Al momento del ritrovamento il fio della donna ha accusato un malore. Ancora dispersa invece Elena Trapani, 74 anni, ma i vigili del fuoco non disperano di trovarla ancora viva. Con le mani e con l'aiuto del geofono cercano di rintracciare eventuali superstiti. Tratto in salvo anche un cagnolino che apparteneva a una delle famiglie. I feriti invece sono sette. Un'intera famiglia si trova adesso all'ospedale civico di Palermo. Il marito di 48 anni, la moglie di 35 e la bambina di 7 anni. A quest'ultima i medici hanno sotturato una ferita all'occhio. La moglie invece è rimasta ferita alla gamba e il marito adesso in osservazione dopo un trauma cranico. Altri quattro superstiti sono rimasti intossicati dalle polveri prodotte dalle macerie. Due bambine, un uomo di 35 anni e una donna di 32 anni sono stati soccorsi invece dal personale del 118. Il crollo è stato causato con ogni probabilità da un cedimento strutturale. Alcuni scricchioli fortunatamente avevano allertato ieri sera i residenti che allarmati nel corso della sera avevano chiamato i vigili del fuoco che dopo aver accertato il dissesto statico hanno immediatamente fatto sgomberare gli edifici. E proprio durante le operazioni di evacuazione, intorno alle 23.20, le palazzine si sono accartocciate su se stesse. Sembrerebbe che al quarto piano di uno degli stabili fosse stato di recente costruito un piano abusivo. Sull'episodio la procura di Palermo ha annunciato l'apertura di un fascicolo di indagini. Le ipotesi di reato sono disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Intanto continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco che hanno scavato per tutta la nottata. Ed anche il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha trascorso la notte in via Bagolino con il comandante della Polizia Municipale ed un assistente sociale del comune che ha assistito gli svollati che sono stati alloggiati in una struttura messa a disposizione dai salesiani. Questa mattina invece si è svolta una riunione che ha coinvolto tra gli altri l'assessore e il comando della Polizia Municipale e il capo di gabinetto Gabriele Marchese per fare il punto della situazione e adottare tutti i provvedimenti necessari, sia per l'assistenza agli svollati sia per i servizi cimiteriali. Alle famiglie coinvolte sono stati forniti i riferimenti del personale comunale che darà loro assistenza, mentre il sindaco continua a seguire gli interventi. Non è del tutto convinto ancora, ma poco ci manca. Una volta presa la decisione definitiva, Antonio Ingroia lascerà la toga per cimentarsi corpo e anima nella sua nuova avventura politica. Con la firma del manifesto Io ci sto, il magistrato ha impresso un'impronta importante riguardo la probabilità di una sua scese in campo a fianco di un altro ex magistrato e attuale sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Volendo attenersi ancora ad un linguaggio prettamente giuridico, la principale prova a sostegno della tesi che vorrebbe Ingroia prima politico e poi probabile candidato per le elezioni, sarebbe la richiesta di aspettativa per motivi politici formulata dallo stesso ex procuratore palermitano attualmente in Guatemala al Consiglio Superiore della Magistratura. Venerdì 21 dicembre Ingroia sarà a Roma per illustrare il manifesto Io ci sto, dove sarà presente anche Antonio Di Pietro. La sua richiesta al CSM di aspettativa per motivi elettorali è stata inoltrata a suo dire a solo scopo cautelativo, nel senso che l'organo di autogoverno della magistratura potrà valutarla a ridosso delle festività di fine anno e cioè nei giorni in cui le camere saranno sciolte dal capo dello Stato. Se questa non è una dichiarazione di colpevolezza politica poco ci manca e adesso il suo nome entra di diritto a far parte della schiera di papabili per le elezioni. Il movimento Io ci sto, di cui Ingroia si è definito primo firmatario, vuole proporre un'alternativa di governo al berlusconismo e alle scelte liberiste, economiche, sociali e culturali del governo Monti, così come si legge nella nota ufficiale di presentazione dell'evento di venerdì. I principali punti del programma politico sono legalità, laicità dello Stato, sviluppo economico, ripristino dell'articolo 18, incandidabilità dei condannati e una legge sul conflitto di interessi. L'Aggiunta Crocetta ha approvato il disegno di legge sui 25.000 precari del bacino della regione e degli enti locali. Prevista la proroga dei contratti fino a fine luglio, secondo quanto previsto anche dalle norme nazionali. Tra le novità la possibilità di ricercare fonti di finanziamento esterne rispetto ai fondi regionali e l'obbligo di ricorrere ad almeno il 20% dei precari negli appalti pubblici. Siamo la prima regione che è riuscita a fare questa norma, ha detto il governatore Rosario Crocetta in conferenza stampa. Verranno compilate anche delle liste in base alle competenze. Introduciamo così una nuova figura che è quella del precario produttivo, ha aggiunto. Sempre l'Aggiunta regionale ha poi approvato anche il disegno di legge in materia di ato rifiuti. Gli ambiti dovevano portare risparmi ed economie di scala, ha detto il presidente Crocetta. Invece hanno causato un buco da 2 miliardi e 700 milioni di euro. Il disegno di legge prevede inoltre che i comuni possano gestire il servizio di spazzamento e raccolta di rifiuti gestendo i contratti a patto che non superino i costi previsti dal piano d'ambito. Questo disegno di legge è caratterizzato dal principio di responsabilità dei sindaci e delle amministrazioni comunali, ha spiegato l'assessore Nicolo Marino. È stata un'emergenza durata 12 anni, ha aggiunto. Adesso cercheremo di migliorare il contatto tra pubblica amministrazione e comuni. Tra le previsioni della norma anche il passaggio delle competenze sul conferimento in discarica dall'assessorato al territorio a quello all'energia. Un altro decreto di legge inoltre è stato approvato in materia di gestione delle risorse idriche. Nel testo ha stolineato sempre l'assessore Marino, introduciamo un concetto che l'acqua è un patrimonio pubblico da tutelare. Crocetta ha spiegato che verrà concesso una proroga di sei mesi per gli ato idrici che verranno comunque posti liquidazione. Entro il 30 giugno 2013 andrà dunque definito il riassetto complessivo del sistema idrico siciliano. Le due palazzine di via Bagolino che lunedì notte a Palermo sono collassate seppellendo e uccidendo quattro persone facendere i riflettori su una grave pericolosa piaga che invade diverse zone del capoluogo siciliano. L'abusivismo soprattutto dove sorgono case popolari spesso risulta essere la regola. Una piaga che come in questo caso può scaturire in tragedia non lasciando altro che una montagna di detriti, polvere e disperazione. I vigili del fuoco erano intervenuti a seguito delle numerose segnalazioni degli inquilini delle palazzine che avevano notato la formazione di crepe sui muri e rumori preoccupanti. Era stata ordinata l'immediata evacuazione degli edifici motivo per il quale è stato scongiorato un bilancio ancora più tragico. Poi però prima che l'evacuazione fosse terminata è arrivato il crollo. Si sono letteralmente sbriciolate davanti agli occhi terrorizzati di quanti erano riusciti a portarsi in salvo e a quelli della gente a corsa incuriosita dall'arrivo dei vigili del fuoco. Si è scavato senza sosta con le mani per cercare di trovare dispersi. Due corpi senza vita sono stati estratti dalle macerie nelle prime ore mentre per altri due si sperava di poterli trovare ancora vivi. Una speranza che si è spenta alle 15 circa di ieri con il ritrovamento dell'ultimo cadavere. Due anziani conugi, una zia e un nipote sono stati portati via ieri mattina. Si è trattato di un cedimento strutturale ma le due palazzine che dovevano avere tre piani ciascuna ne avevano invece quattro costruiti in modo completamente abusivo. Due terrazze erano state chiuse adibite ad appartamenti. Che sia stato questo il motivo del cedimento non è stato ancora accertato e non sarà facile risalire alle cause in tempi brevi ma quello che è certo è che qualora le palazzine fossero già a rischio come testimoniato da alcuni abitanti aggiungere il peso di un intero piano senza i dovuti calcoli strutturali ha certamente contribuito. Va considerato inoltre che anche i terzi piani erano stati realizzati senza alcune concessioni. Il paradosso è che erano in attesa di sanatoria dal 1986 con tanto di perizia aggiorata agli atti del comune che ne attestava la potenziale regolarizzabilità. Saranno ora i magistrati che hanno aperto un'inchiesta per disastro colposo omicidio plurimo ancora a carico di ignoti ad accertarne le cause. A perdere la vita nel crollo sono stati Ignazio Accardi di 84 anni e la moglie Maria Lamattina di 80 che erano sul balcone al secondo piano e non hanno fatto in tempo a fuggire. Stessa sorte per Elena Trapani, 74 anni, l'ultima ad essere stata ritrovata ed il nipote Domenico Cina di 54 che vivevano al primo piano. Ai funerali delle vittime penserà il comune ha detto il sindacolo Luca Orlando che ha passato la notte accanto ai vigili del fuoco e dagli operatori del 118. E ieri durante una conferenza stampa ha invitato i cittadini a denunciare gli abusi. Dal primo gennaio ad oggi 191 le denunce di abusivismo edilizio ed altrettanti immobili sequestrati. 275 le persone denunciate per abusivismo edilizio, due lottizzazioni abusive sequestrate, 26 le denunce per violazione dei sigilli. Al momento ci sono 52 vigili urbani che si occupano a Palermo solo di questo settore. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e quello del Senato, Renato Schifani, hanno espresso il loro cordoglio per quanto accaduto, mentre il governatore siciliano, Rosario Crocetta, ha chiesto di fare luce sulle responsabilità dell'ennesimo crollo annunciato. Ristorante Villa Antigone, per ritrovare il calore e l'eleganza che rievoca gli antichi sapori delle migliori tradizioni. Villa Antigone, qualcosa di più di un ristorante, la certezza di essere un gradito ospite. Villa Antigone, ristorante, pizzeria, sala ricevimenti, meeting, cene di lavoro, banchetti, cocktail. Ristorante Villa Antigone, prenota per le festività natalizie e per uno splendido cenone di fine anno. Villa Antigone, in via Antigone 40A, a Partanna Mondello, telefono 091 45 43 06. Da Vitti, moda calzature, scarpe made in Italy di qualità e convenienza. Offriamo un grandissimo assortimento uomo, donna, bambino e articoli sportivi delle migliori marche. La famiglia che risparmia compra Vitti Calzature. Vitti Calzature, il Natale, lo festeggia così. Vitti Calzature è a Palermo, in via Roma numero 201 ed in corso Vittorio Emanuele 278. Un'anziana di 82 anni e la sua badante sono state salvate ieri sera intorno alle venti dei Vigili del Fuoco a Palermo. Erano rimaste intrappolate nell'incendio divampato in un appartamento al settimo piano in via Roma 519 Angolo, via Mericomari. La polizia è accorsa sul posto prima ancora che arrivassero i Vigili del Fuoco. Providenziale il loro intervento che ha permesso di portare in salvo una ragazza invalida sulla sedia a rotelle che risiedeva al sesto piano dello stabile, dove il fumo era già arrivato. Al loro arrivo i pompieri hanno invece pensato a soccorrere l'anziana con la sua badante al piano di sopra. Le due si erano rifugiate nel terrazzo da dove sono scese con le autoscale. Una volta tratte in salvo le inquiline, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile l'attico e, in via precauzionale, hanno deciso di sgomberare anche il sesto piano. Le persone salvate sono apparse molto scosse da quanto accaduto. L'anziana è stata portata via in ambulanza per essere sottoposta alle cure mediche a causa del tanto fumo inalato. Le sue condizioni comunque non destano particolari preoccupazioni. Durante le operazioni di soccorso tre poliziotti sono rimasti intossicati a causa del fumo prodotto dall'incendio. Uno di loro è stato prontamente rianimato all'interno di un mezzo del 118 a corso sul luogo del disastro. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma le fiamme hanno completamente distrutto l'appartamento. Inizialmente si era pensato che le fiamme potessero essere state provocate dal malfunzionamento della caldaia e del riscaldamento, ma, secondo quanto emerso da un primo sopralluogo, la causa del ruogo potrebbe essere adebitata ad un cortocircuito scaturito dal malfunzionamento di una doppia presa, non ha norma di sicurezza. Oggi a Palermo è il giorno del dolore dopo la tragedia del crollo delle due palazzine di via Bagolino avvenuto lunedì sera e nel quale hanno perso la vita quattro persone. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto ad Antonino Cinà di 54 anni, Elena di Trapani di 74 anni, Ignazio Accarni, un pensionato di 82 anni e la moglie Maria Lamattina di 80 anni. Le cui salme già da ieri si trovano nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a due passi da via Bagolino. Già ieri pomeriggio si era visto un viavai di gente alla Camera Ardente dove in serata si è svolta una veglia di preghiera cui ha partecipato anche il sindaco Orlando. Per tutta la notte una folla commossa si è stretta attorno ai familiari nella preghiera davanti ai quattro feretri. Oggi invece a mezzogiorno, sempre nella chiesa di quartiere, sono stati celebrati i funerali. Presenti oltre a una grandissima folla anche il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando e il prefetto Umberto Postiglione. Le salme sono state poi trasportate al cimitero di Santa Maria di Gesù dove saranno tumulate. Oggi è stato il giorno in cui la rabbia, le domande, i sei, ma hanno lasciato spazio al dolore e al silenzio. Perché di fronte ad una tragedia simile a delle morti così ingiuste, la verità è che non esistono parole sufficienti a raccontare un dramma come questo, che ha lasciato una ferita aperta in città. Un giorno di dolore in cui comunque l'inchiesta va avanti per accertare la verità su quei due piani abusivi che hanno buttato giù le due palazzine. I PM Marzia Sabella e Degno Petrini e il procuratore aggiunto Maurizio Scalia hanno nominato due consulenti tecnici che dovranno far luce sul crollo. Il fascicolo di indagine riguarda i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Palermo in servizio di vigilanza all'interno dell'area portuale del capologo siciliano, nell'ambito di controlli doganali effettuati sulla merce in uscita dal territorio comunitario, hanno fermato e sottoposto a controllo un container destinato all'esportazione in Africa occidentale e precisamente in Ghana. I finanzieri insospettiti per l'assoluta genericità del carico formalmente dichiarato come masserizie varie nella bolletta doganale ed esportazione hanno approfondito il controllo richiedendo all'ufficio della dogana, prima di consentire che il container lasciasse il nostro paese, di sottoporre alla cosiddetta visita doganale il carico per procedere all'ispezione dello stesso previ a rimozione dei sigilli appositi sul mezzo di trasporto guidato da un extracomunitario. All'interno del container erano ammassati numerosi oggetti usati, tra cui i mobili da cucina e scatoloni pieni di indumenti usati, frigoriferi, materassi, sacchi di scarpe e quant'altro, che ostruivano la vista sulla parte retrostante del carico. Dopo averli rimossi, i militari hanno scoperto che all'interno erano stivati alcuni veicoli che non figuravano tra i beni riepilogati nei documenti ufficiali. Grazie ad un rapido riscontro dei numeri di telaio dei mezzi, ossia un SUV e due moto, tutti privi di targa e con ancora le chiavi appese, i finanziari hanno potuto constatare la provenienza delittuosa. Tutti e tre i mezzi di trasporto rinvenuti all'interno del container sono infatti risultati rubati nel corso degli ultimi 15 giorni a Palermo. Il cittadino extracomunitario reticente nel fornire indicazioni sulla provenienza della merce destinata all'estero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo per il reato di ricettazione. Le indagini sono ancora in corso per risalire all'individuazione di altri soggetti coinvolti nel traffico illecito. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando ed il liquidatore della GESIP, Giovanni Labianca, hanno fatto sapere che a seguito del trasferimento da parte del Comune di una somma di 2 milioni di euro sono state erogate a tutti i lavoratori le spettanze maturate fino ad oggi a qualsiasi titolo. Ciascun lavoratore ha percepito una somma variante fra i 350 e i 2 mila euro. Nessun lavoratore della GESIP vanta più alcun credito verso la società, hanno sottolineato Orlando e Labianca. Ed oggi, così come deciso all'ultima assemblea dei soci e su indicazione dell'amministrazione comunale, sono stati trasmessi al Tribunale di Palermo i libri contabili della società per dare avvio alla procedura di liquidazione. Immediata la risposta della Wiltux Sicilia, la notizia dell'imminente avvio delle procedure fallimentari della GESIP circolava ormai da parecchi giorni. La stessa data del 21 fissata per le procedure di mobilità appariva in tale contesto semplicemente come un atto dovuto, non sostanziato però, da quell'incontro che reiteratamente le organizzazioni sindacali avevano richiesto e continuato a farlo sugli aspetti di prospettiva. Seppur trapelino notizie sull'approvazione dello statuto della consortile, non si hanno certezze sui tempi e sulle modalità di attivazione della stessa, e nemmeno sul futuro dei lavoratori, sia riguardo i tempi, sia riguardo le scelte che si vogliono compiere. Appare singolare, fanno sapere dal sindacato, che in tale stato di incertezza ci siano alcuni ambienti che in questi giorni si sono dedicati alla compilazione di non ben identificate liste di lavoratori, millantando fantasiosi e ricollocazioni secondo criteri altrettanto non identificati ed in ambiti sconosciuti. La sensazione è che, oltre a quanto già drammaticamente vissuto da questi lavoratori, si continui imperterriti a fare un uso spregiudicato del bisogno e della disperazione degli stessi. Speriamo di pervenire al più presto all'ufficialità degli ambiti e dei contenuti per decisioni che riguardano la generalità dei lavoratori. Grazie. 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 Grazie.